Dai però liberami No Oh no no Dai No Liberami Sono bloccata qui Ma nulla ha senso se poi non ci sei te Vieni via con me Ciao io sono Crazy ragazzuoli c'è di l'alice che si sta riposando no perché comunque si sta abbronzando e lei sa che io sto registrando un video normalissimo ma diciamo che oggi voglio sfidarla in una challenge super mega iper difficile ovvero stare legata 24 ore ad un albero ovviamente lei non accetterebbe mai dunque troverò un modo diciamo per costringerla ecco c'è anche Maya troverò un modo per diciamo costringerla a farlo Eh non lo so per esempio potremmo prendere una corda un qualcosa per legarla e vediamo di andarla a trovare Ragazzuoli io penso che non ce la farà perché col caldo raga è veramente straziante come cosa eh cioè non si può stare sotto il sole da qua in Sicilia quindi immaginatevi se la lego E già cominciamo ad avvicinarci Raga e diciamo che boh cosa gli posso dire Cosa le posso dire Crazy l'italiano Cosa le posso dire per Ciao amore Stai riposando? Io sto registrando il video per il mio canale Quello tipo home tour Saluta Ciao Anzi ora mi devi aiutare a fare una cosa ok? Una cosa per il video ok? Ciao Maya Ciao A dopo Ciao Ok raga Che stai riposando noi? Raga ho trovato un filo di rame sulla tavola Ma secondo me va bene? È un filo proprio di rame ma What? Ma Vabbè comunque ci sta raga Non è una corda ma è un filo e puoi aiutarci Andiamo da dice vediamo che dice magari dico che mi deve aiutare per una storia Instagram Oppure per un video Ma vabbè io l'ho detto ma perché mi faccio sti problemi amore? Amore Allora aiutami ok? Allora vieni un attimo qua Cosa qua? Maya ora non giochiamo aspetta Saluta Ciao 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 Vai vai aiutami Allora poso la fotocamera e ti spiego tutto Ok allora controllo se sto registrando Allora pronta Non devi fare fare? No no vabbè nulla di grave comunque Allora è una challenge Non è una challenge in realtà E tipo L'altelena a corda? Tipo no io devo fare una sfida Vabbè ora ti dico allora un attimo che io Metti qua Metti qua Proprio qua Bene Un attimo Ok Aspetta eh No 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 Ma stai facendo tipo l'altelena fai da te? Eh sì tipo una cosa in genere Un attimo eh Però non stringere troppo No no non stringo troppo Tanto 5 minuti e ti tolgo Ok 5 minuti e ti tolgo eh Ok Ok Perfetto Vuoi muoverti? Vuoi togliertelo? No È stretto? Sì È proprio stretto? Che devo fare? Nulla devi restare lì per 24 ore se no per dilacciare No dai Ciao amore No 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 Ti voglio bene eh Dai però Ciao amore No Resta lì No 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 Ragazzi Via questa già Ma scusa qual è il problema? Non voglio stare lì per 24 ore C'è troppo caldo Dai Ma sei pure sotto l'albero di olivo E se viene un uccello E poi bisogna sopra la città Maia Aiutata tu Vabbè amore ci rendiamo Io vado a mangiare Ad fare colazione No no pure io ho fame No dai Ad fare colazione raga Ciao amore Ragazzi c'è una che sta urlando Ma non capisco chi sia eh C'è proprio Non so Ma da fare colazione ci sentiamo più tardi raga Poverina E vabbè oh Ogni tanto bisogna sfidare la propria ragazza in delle challenge Eh Mica possiamo sempre Bisogna sfidare in delle challenge la propria ragazza Io e Maia abbiamo appena fatto colazione raga Maia Ciao Pallina 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 Vai prendila Andiamo a vedere a che punto è Alice raga Perché abbiamo appena fatto colazione io e Maia E non ha effettivamente un bello sguardo eh Cioè Anzi Dai Almeno portai qualcosa da mangiare Voglio fare qualcosa dai Ma si sta bene qua sotto? No Da quanto tempo è che sei qua sotto a 20 minuti? Perdirei la challenge? Vincerò Vincerò la challenge E vuoi stare qua per 24 ore? Allora? Però non ti do la soddisfazione di vincere Quindi vincerò io E quindi sarai legata a un albero per 24 ore Con questo filo che è praticamente Ma le challenge estreme tutte tu le scegli Certo Io non lo so dai Una challenge più bella potevi farla però La cosa bella raga È che lei non può uscire perché il filo è proprio tirato Cioè è tirato Incappolata Cioè non posso neanche fare così abbassarmi perché è stretto Mi faccio male Dai però liberami No Oh raga No Dai No Ti aspetterò un'altalena C'è un'altalena Ma questo non è uno scherzo è una challenge Ti farò veramente passare Le cose più belle Ah ecco Maya ti è venuta a trovare Ciao Maya Maya aiutami tu Maya Maya vieni qua mi ha bloccata Dai i botte monanno Dai Tiragli almeno la pallina Non posso abbassarmi Non posso abbassarmi Dai Veramente non puoi liberarti? Sì Agliai fai male Mi fai male Non si può regà perché Guarda questo è il massimo che riesce Sì ma fai male non tirare Sei bloccata per sempre amore Contetta Va bene Allora io vado a farmi un bagno in piscina No no ma io non Anzi quasi quasi raga Vado a prepararmi altro da mangiare Anzi sai che ti dico Vado al mare amore Come va al mare? Mi lasci solo qua Eh 24 ore devi restare Dai 24 ore resta lì Mamma mia quanto ti lamenti però È una challenge Ma è semplicemente una challenge Vati cosa ti preoccupi Tanto ora non si lamenterà più raga Tra pochi secondi non la sentirete più Allora Sei caldissimo Ma come mi guarda La vedete ecco Ok Non so se si vede Guardate dov'è Raga Poverina Ma quanto ne combino raga Poverina raga 24 ore così non baseranno mai raga Mamma mia sotto il sole viene Viene veramente il caldo Mamma mia raga Cioè proprio ti prende il caldo e E maia Amore Pallina Pallina Come gli si alzano le orecchie Quando senti pallina No Non ti libero No Ok portiamogli qualcosa da mangiare Ad Alice raga E gli prepariamo qualcosa da mangiare Questo qua è perfetto Una bella spinta Amore è pronta Ti ho portato qualcosa da mangiare Ok Tieni Ma che fai Ma c'è una bella spugnetta qua Lo sai cosa possiamo Oh ci ho pensato Possiamo giocare a tira Tutto da Alice challenge Oh bella sta challenge Tira tutto da Alice challenge No Dai però Maia Tiriamo pure Maia Povera Alice raga Povera Alice Sola bloccata qui Lo sappiamo e lo vediamo amore L'oliva Ah si è vero Dai Cosa vai Mi sono preso un po' di sole raga Scusate se mi vedete tutto bianco Mi libero però dai Non ce la faccio più Ma come faccio? Vuoi liberarti? Non lo so Non riesco Oh hai allentato la corda Che infame No no Vedi che perdi la challenge eh Hai allentato la corda C'è troppo caldo Raga come faccio? È impossibile stare qui 24 ore C'è troppo caldo Ok che sono all'ombra Hai allentato la corda Perché l'ho tirata Cioè io mi sono preso il sole 20 minuti 25 massimo E lei già ha provato a liberarsi Quindi che fai? Ti liberi o ti rialleghi? Come ti liberi? Perdi la challenge? Perdi la challenge Allora e ti dirò di più Questa volta la penitenza la sceglierete voi Hashtag penitenza nei commenti E sceglierete la penitenza Quella che avrà più like Signore e signori la farà Siate buoni con me Aspetta quindi ti liberi La penitenza la farò ora Quindi mi libero Dai lo so che siete bravi con me Quindi per favore una penitenza bella Ok? Ok Io non ho fatto nulla di male Bene La sciolgo io Mangiare la spugna Senti liberi Cosa fai? Cosa fai? No ferma La fotocamera c'è Sei impazzita Dai gli posta E morallo mi ha legata qui Mi ha fatto sentire male Con tutto questo caldo La fotocamera Ha bagnato tutta la Ha bagnato tutta la fotocamera Tu sei pazza Eh ma tu sei più pazzo di me Che mi leghi ad un albero Ma cosa mi leghi ad un albero? Va bene dai liberati Dai liberati Ok dai È sicuro? Vai Buona fortuna Adesso ti butta in piscina Maia difendimi Maia difendimi In piscina raga No 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 In piscina Raga in piscina Raga in piscina Raga è in piscina La prendo No È in piscina È in piscina La prendo No raga sto scappando Ho la fotocamera in mano Io scivo Ti ho presa No 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 Allora calmiamoci Siedi di tregua Secondino di tregua Allora Ti butto io in piscina No Hai perso Quindi adesso devi fare una penitenza E la sceglieranno loro E non la farò ora La sceglierte voi la farò domani E quindi io voglio buttarti in piscina Ora Tu Io no Però dice butto in piscina Sì ma non è che mi devo far buttare Io mi devo buttare No io ti devo buttare No Io ti devo buttare No Simonello Mamma mia raga Se non riusciva a slegarsi Se non riusciva a slegarsi raga Cioè ma Se ero intrappolata Come facevo poi Raga il caldo È troppo Mamma mia La Sicilia E Alice Vi vogliamo vedere L'altro del video Che caldo Alice e Crazy vi ringraziano Per aver guardato questo video E lui come sempre Mi fa challenge Assurde Perché lui è un pazzo Il più pazzo di me E niente Mi chiamo Crazy Che battuta E niente Scrivete nei commenti La penitenza Che dovete far farmi Per favore Una buona Perché io sono buona Con voi Quindi mi raccomando E lui è quello che bullizza Quindi lui deve fare Ma è vero Io semplicemente Ti propongo delle sfide Eh ma sfide Sceme Detto questo Il video finisce qua Che questa qua Non ci è più La testa Il caldo È affatto male Alice e Crazy vi vogliono vedere Ci vediamo domani Per un prossimo video Ore 12 Ciao Ciao Ma se l'auto Non la facciamo insieme Lo con la mano insieme Adesso andiamo in piscina Perché non ce la faccio più Ma non mi buttate Se siete arrivati a questo punto del video Commentate con hashtag Subito in piscina Ciao